Ciao ragazzi, io sono Giuseppe e questa è la guida dedicata interamente ai modem. Qui sotto, linkata in descrizione, troverete la playlist che contiene tutti quanti i tutorial, pertanto dategli un'occhiata, se vi va di sostenermi iscrivetevi al canale, lasciate un like soprattutto, se vi va di supportarmi in maniera più profonda, più sostanziosa abbonatevi al canale così vi potrò portare sempre contenuti migliori. Seguitemi su tutti quanti i miei social network, sempre qui sotto linkata in descrizione c'è la chat di supporto per qualsiasi problema, dunque mi potrete contattare gratuitamente, ci saranno anche altri utenti pronti ad aiutarvi e se volete c'è anche il link al canale telegram delle offerte dove potrete trovare offerte codici sconto, minimi storici, segnalazioni di errori di prezzo ma anche segnalazioni di offerte warehouse Amazon. Ragazzi credetemi ne vale davvero la pena. Non mi dilungo oltre e andiamo al tutorial. Nel video di oggi vi mostrerò come andare a cambiare i DNS sul nostro computer. È un'operazione che appunto dovremmo fare su computer ma a partire da qualsiasi rete wireless si può fare anche su smartphone, tablet eccetera. Allora cosa voglio dirvi a tal proposito e prima di eseguire l'operazione? Cosa significa cambiare i DNS? Senza scendere all'interno della definizione di DNS vi dico semplicemente che questi sono dei parametri che ci consentiranno di connetterci ad un server particolare che a sua volta ci permetterà da un lato di aumentare la velocità della connessione ma non è intesa la velocità di download ed upload che ci fornisce appunto il nostro gestore team Vodafone Wind eccetera ma semplicemente andremo a diminuire il tempo di risposta quando saremo in internet. Ora ci sono diversi DNS che è possibile utilizzare. Ci sono quelli di Google, quelli di Cloudflare, quelli OpenDNS eccetera. Tra l'altro ci permetteranno anche di raggiungere siti web che normalmente sono oscurati ma qui non si tratta di pirateria o altro. Allora cosa dobbiamo fare? Anzitutto andiamo ad aprire le preferenze di rete che qui su Mac si fa in questa maniera senza passare per la mela eccetera in maniera molto molto veloce. In base alla connessione che abbiamo io ho sia wifi sia ethernet dovrete fare l'operazione su entrambi ma a me in questo momento basta farlo su ethernet. Che cosa faccio? Vado ad aprire le impostazioni avanzate intanto qui già vedete che sono modificati avanzate e andate nella sezione DNS. Voi troverete dei valori standard vi basterà semplicemente cliccare sul primo e andare a cliccare nuovamente scrivete 1.1.1.1. Andate a cliccare sul secondo se non lo troverete vi basterà cliccare sul più e anche qui andrete a modificare in 1.0.0.1. Ragazzi io ho inserito questi che sono quelli di Cloudflare non quelli di Google gli OpenDNS eccetera perché questi sono quelli che rispondono meglio sono i più veloci e dunque vi consiglio di utilizzarli. Magari qui sotto in descrizione vi lascio scritti tutti quanti gli altri e poi sceglierete voi. Grazie a tutti.